Misericordia e verità si sono incontrate amici miei, rettitudine e felicità debbono baciarsi. Nella nostra umana debolezza e miopia crediamo di dover scegliere la nostra strada in vita e tremiamo per il rischio che quindi corriamo. Abbiamo paura. Ma no, la nostra scelta non è importante. Viene il giorno in cui apriamo i nostri occhi e vediamo e capiamo che la grazia di Dio è infinita. Dobbiamo solo attenderla con fiducia e accoglierla con riconoscenza. Dio non pone condizioni, non preferisce uno di noi piuttosto di un altro. Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci viene accordato. Perché misericordia e verità si sono incontrate. Rettitudine e felicità si sono baciate. Rettitudine e felicità si sono incontrate. Rettitudine e felicità si sono incontrate. Grazie a tutti.